Siamo con la dottoressa Claudia La Terza della Fondazione Maria Rossi Onlus per parlare in occasione della giornata mondiale contro il cancro di dati. Sappiamo che appunto si muore di meno, l'1,8% in meno per quanto riguarda gli uomini, l'1,4% in meno per quanto riguarda le donne, ma c'è da fare i conti con la realtà. Sì, sicuramente abbiamo avuto oggi delle buone notizie rispetto alla mortalità, ma dobbiamo renderci conto che il cancro è un problema, è un problema reale e interessa un individuo su tre nei paesi industrializzati con un trend che va verso uno su due. È quindi un problema che interessa tutti, anche sulla prevenzione. È stato fatto un grande lavoro, sono state annunciate moltissime attività per favorirla anche in età molto giovane, quindi già a partire dalle scuole e dai bambini. Tuttavia è anche vero che la Puglia è l'ultima regione per quanto riguarda la prevenzione oncologica e con, ahimè, dati veramente bassi rispetto a quello che è stato fatto negli ultimi anni. Prima lo chiamavano il male del secolo, adesso invece come dobbiamo chiamarlo? Il male del secolo. Sono stati fatti passi avanti davvero da gigante, soprattutto con la ricerca in campo oncologico, con le nuove terapie mirate, un cosiddetto bersaglio che quindi non devastano più l'intero organismo del malato di cancro, ma colpiscono in effetti la malattia. Non c'è però soltanto il malato e soltanto la malattia, ma intorno al paziente oncologico ruota poi una famiglia che è devastata insieme al paziente dalla malattia e una serie di complicazioni organizzative che senz'altro meritano un'attenzione maggiore. Basti pensare ai tempi per la prenotazione, ai passaggi burocratici per la richiesta del medico, per l'appuntamento, per le sedute di chemioterapia, sono tutte cose che complicano la vita del malato ma soprattutto della sua famiglia. Come ad esempio accade nel caso in cui si ammala un padre di famiglia che lascia il resto della famiglia, i figli e magari anche la moglie in condizioni economiche non proprio buone. Sì, noi siamo partiti proprio da questo, dalla considerazione che i ragazzi italiani, insomma i ventenni italiani non sono ancora ragazzi sistemati, non lavorano perché magari sono ancora alla ricerca di un lavoro e tendenzialmente magari studiano e quindi la perdita del genitore prevalente da un punto di vista economico può creare davvero dei problemi immensi e la fondazione in questo senso con il progetto Figli di Nessuno si occupa proprio di creare una rete solidale di professionisti che possano dare una mano a questi ragazzi per continuare a godere del diritto che un giovane ha di terminare gli studi o comunque di sopravvivere ad un evento drammatico da un punto di vista emotivo e morale ma anche da un punto di vista poi pratico. Un dato confortante invece è quello relativo alle diagnosi, questo significa che la gente è stata sensibilizzata, ha paura anche? Sì, la gente senza altro ha paura. Stamattina sui giornali si diceva attenzione a determinati sintomi, in realtà la gente ha paura di quasi tutti i sintomi, però è anche vero che un dimagrimento importante improvviso e immotivato, la presenza di sangue nelle feci o comunque quando si fa la tosse sono ad esempio dei campanelli d'allarme che richiedono se non altro un consulto dal medico curante e poi il dolore. Il dolore è a volte il primo sintomo d'esordio di una malattia del genere, certo non parlo del doloretto passeggero ma di un dolore importante che magari è fisso in un punto del corpo e che richiede non solo la pazienza e la preparazione del sanitario perché deve conoscerlo e deve trattarlo in maniera adeguata ma anche un po' di attenzione da parte del paziente che a volte magari preso dalle mille cose giornaliere sottovaluta questa stranezza. Meglio andare dal medico anziché googolare un sintomo. Abbiamo creato ultimamente una popolazione di sibercondriaci perché chiaramente uno mette un sintomo su google e esce di tutto di più quindi non dobbiamo diventare ipocondriaci ma sicuramente fare attenzione ai segnali del nostro organismo anche perché sappiamo quando si tratta di una stupidaggine o quando il segnale è un pochino più allarmante lo sappiamo a quel punto è inutile mettere la testa sotto la sabbia conviene senz'altro di più togliersi il dubbio e rivolgersi a un medico. In tutto questo la fondazione Maria Rossi Onlus dove si colloca fin dove arriva con il paziente? La fondazione Maria Rossi ha pensato i suoi progetti al fine di sostenere tutti coloro che si trovano ad affrontare il problema cancro quindi il malato segue un percorso con l'oncologo, con l'assistenza domiciliare, con eventualmente laddove sono presenti le cure palliative. Quello che deve fare invece la fondazione è senz'altro sostenere i familiari e in particolare i ragazzi con il progetto figli di nessuno quelli che rimangono ahimè senza uno o entrambi i genitori, sostenere in maniera pratica coloro che non possono recarsi nelle strutture oncologiche per fare la chemioterapia perché non hanno chi li accompagna quindi il servizio trasporto solidale serve appunto a favorire quelli che non saprebbero come arrivare a fare le terapie in oncologia. Ovviamente è importantissimo che si crei la cultura non solo della prevenzione, delle cure palliative, del dolore in modo tale che la legge 38 che garantisce al cittadino terapia del dolore e cure palliative sia conosciuta il più possibile, da quanta più gente possibile e poi insomma il nostro sogno è quello di costruire una struttura per la riabilitazione oncologica quindi per chi esce dalla malattia, per chi guarisce ma che ne esce un po' ammaccato anche psicologicamente quindi può poi recuperare le forze e ritrovare un'energia interiore per riaffrontare la vita.